club radio is it okay if I watch club radio io ti dico due partite contro l'inter e contro la juve capelli mi ha fatto marcare contro l'inter di viaggio contro la juve tacchi nardi allora con l'inter io stavo dovevo marcare di viaggio e dovevo far giocare di viaggio vi ero proprio un uomo tutta la partita a un certo punto dice che un mio amico si ce ne fa ma che cazzo stai a fare mi stai a marcare e tu mi hai dismarcati che devo fare quella partita non ho toccato una palla perché il mio computer non fa giocare ma neanche lui non ho toccato una palla mi giravo verso la panchina c'era il cappello col pollice alzato mi faccia bravo Marco il giorno dopo 4 e mezzo non si vede però il cappello era contentissimo capito cioè poi gli dico un attaccante non sei visto tutta la partita l'ha arrivato mai in porta ma non era quello il mio compito quella partita eccello club radio is it ok if i watch club radio